Solo tre anni fa era inimmaginabile, oggi invece è realtà dall'aeroporto internazionale di Ancona due voli giornalieri per Roma, altrettanti per Milano, un volo giornaliero per Napoli e poi voli internazionali per Londra, Vienna, Monaco, Tirana, Amsterdam, Barcellona e Bucharest. Un altro passo per sottrarre le marche da quell'isolamento infrastrutturale nel quale era stata lasciata da una politica miope, un risultato che fa bene all'economia, alle imprese e al turismo della regione, un obiettivo raggiunto grazie al lavoro e alla determinazione del presidente Francesco Quaroli e dell'assessore Goffredo Brandoni, lo afferma Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Trasporti a Montecitorio. Oggi dall'aeroporto di Ancona sono partiti i primi voli che quotidianamente collegheranno il capoluogo marchigiano con Milano, Napoli e Roma, un risultato impensabile fino a qualche anno fa, ottenuto grazie alla capacità e alla determinazione della Giunta regionale. Nella scorsa legge di bilancio sono stati stanziati 3,7 milioni di euro annui per il 2023, il 2024 e il 2025 per il rilancio del Raffaello Sanzio, infrastruttura centrale per il turismo e lo sviluppo economico di tutto il territorio. Ai voli verso i principali scali italiani si sommano altre nuove destinazioni che collegheranno le marche con il resto d'Europa, un risultato davvero epocale che consentirà ai cittadini marchigiani di uscire da una condizione di isolamento che perdurava da anni. Così, in una nota, il sottosegretario dell'Economia e Finanze, Lucia Albano.